Il prezzo dell'energia viene spesso additato come la causa della scarsa competitività dell'Italia rispetto per esempio alla Germania. L'energia in Germania costa di più. Quindi è vero che in Europa il costo dell'energia o il prezzo dell'energia è diverso paese per paese. È vero che l'Italia si trova diciamo nella fascia, nell'un terzo che paga l'energia più caro di altri. È vero che la Germania si trova un gradino più in alto dell'Italia. Quindi non è che siamo meno competitivi della Germania perché l'energia costa di più.